Siamo sul set in esterni, località quarto e questo è Villa Marina, giusto? Finalmente la vediamo, qui ci sono i super 4, i 4-4 li chiamerei, del set in esterni. Laura, Marcella, Fabio e Alessandro, siamo qua, figurati. E quindi adesso facciamo un bel giro. Alberto, il direttore della fotografia, con Bruno Nappi, che è il regista. Nina, mi violentano! C'è una frullata! Mi piace! Io non lo so. C'è te le permette. Come stiamo a batteria? La batteria ce la facciamo ancora, per questa soggettiva. Ma che stai a fa' qua, Marco? Che mi hai combinato, Marina? Che mi fai fare? Mi hai ridotto a una pezzo da piedi. Mi hai ridotto a un maggior domani, un strano, un lavato a terra. Però tu c'è stai, eh? Che compate? Sto lagrando il gasco. Sto per morire. Andiamo ragazzi. Pronti? Mi hai preso per il capello, per il collo. E non dico altro. Vediamo. Mi sarebbe che mi sia troppo maschio come un maschio. Poi faccio così. La giuriamo? Sì. E la mazza da sta? Avanti. Francesco. Ieri ce l'avate 40 anni. E la mazza da 10 minuti. Io sono l'amante. Era di Diova. Aprivi il frangelo e mi metto al posto suo. Dentro. Tu non parli. Ma io le ho passate proprio a provisare. Ok. Il bagazzano fa le soldi a fengue. Sono l'amante. Che bello. Sto a figuratore. Ma io le ho passate. Ma ci fa tirare. Ti fa tirare già miti. Lo sai? Ah sì. Eh. Qui conoscevano da andiamo. E poi vai. Un grande. Ma la sal è un poco cara. E' un gusto. Ma sai? Anche c'è baci. Ma l'ho sa pagato quando erano scopi. E' unico. E' unico. E' unico. E' unico. E' unico. Pronti? Pronti! Nico! Nico! Senti Marina, io sto facendo tutto quello che vuoi. Ma non esagerare, perché se tiri troppo la corda... Stop! Scusami, scusami. Un'altra? Un'altra? Ecco, io le foglie, soddisfatta la signora. E i sacchi di terriccio mi ci stanno a fare, eh? Mi voglio la costruzione di ieri. Quelli mi servono adesso, sto rinvasando le piante. Non mi interessa, Marina, non voglio vedere davanti ai miei occhi. Toglili subito! Senti Marina, io sto facendo tutto quello che vuoi. Ma non esagerare, perché se tiri troppo la corda... Se tira troppo la corda, cosa? Che non è successo? Cazzo! Stop! Buona! Marina! Marto! Come sono cattivo! Povero Marto! Non c'è... Ma proprio tu tratti male sempre tutti, ma perché... Dicevi scusa? Neanche davanti a un giudice! No? No! Va bene. Allora... Niente, dai. Niente. Mi è andata male? Diciamo, bisogna anche immaginare, più che vedere. Eh, certo. C'hai ragione. Ma parli per me? No, parlavo per me in questo caso. E' facile scrivere, si toglie la maglietta, capito? Dove c'è scritto, scusa? Si toglie la maglietta e... Dove c'è scritto? Dove c'è scritto? Avevo un po' il respiro, poi si toglie la maglietta mostrando la cicatrice e la ferita sull'addome. Eh! Ma se tu l'addome non lo vedi perché è coperto di panza... Allora... Ma non ti lamentare! Prima di vedere la cicatrice... Non ti lamentare! Prima di vedere la cicatrice tu vedi la panza! Primo, va bene? Motore! Gira! Azione! Salve, buongiorno, sono Marina Giordano, avrei bisogno di un accompagnatore per questa sera. moto e usando... Le telegno amole Son qui lay la 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 wir Il mio amor da ea questo caldo che sta facendo venire da stupidera vero Umberto